Cos'era quella cosa fra voi? Una lite? Sì, ma è passata, la ricordo a malapena. Per fortuna noi non litighiamo. Infatti. Ma per favore, le donne litigano. Sì, per esempio a noi è successo per via di quella borsetta. Ma è stata una cosa da niente. Sì, una cosa da niente. E alla fine abbiamo deciso che sarebbe stato meglio che nessuna di noi la comprasse. Già. La borsetta gialla, con la tracolla. Sì, l'ho vista. È nel suo armadio. Credo che tu ti stia sbagliando. Devo scappare. Grazie per avermi aiutato con i preparativi per la festa. Sei la migliore. No, sei tu la migliore. Ci sentiamo dopo? Certo. Ok, ciao! Ciao!